La vendita degli abbonamenti è iniziata giovedì scorso, quella dei biglietti per le proiezioni ospitate al Teatro Petruzzelli da 24 ore. E i numeri sono già da record, oltre 5.000 tagliandi venduti finora. Lo testimoniano le code al botteghino e per la serata inaugurale del 21 marzo è quasi sold out. Ogni singolo film sta ottenendo un grande successo, con particolari punte di interesse nei confronti di titoli che noi abbiamo collocato anche in orari particolari. C'è ad esempio il film dedicato a Kurt Cobain che ha già venduto, siamo prossimi al tutto esaurito, lo stesso serata chiaramente inaugurale e finale. Siamo praticamente prossimi al sold out. Il B-Fest, sesta edizione dedicata a regista Francesco Rosi, ormai è un evento di respiro internazionale, anzi sono proprio le anteprime internazionali quelle più gettonate. Un'attenzione reale e forte a quello che è chiaramente il panorama del cinema italiano, che ora da quest'anno si amplia al cinema internazionale a partire dalla fascia mattutina che invece avrà luogo, che è ad ingresso gratuito nel teatro Petruzzelli e che riguarda i grandi maestri del cinema internazionale, Costa Gavras, Alan Parker aprirà sabato. Le vendite dei biglietti per i film sono aperte solo per il Petruzzelli. 12 euro per ogni film è esclusa la serata finale. 100 euro l'abbonamento alle anteprime internazionali, compresi l'evento speciale di mezzanotte del 21 marzo e la serata finale del 28. Costi di ingresso per la sezione panorama internazionale 3 euro a proiezione e 30 per 12 film. Per il Galleria si potranno acquistare solo nel giorno dell'evento.